Lei lo sa che si va a votare a Torre del Greco quest'anno? Sì. Sa già chi voterà? Non so ancora i candidati, se non so i candidati quali saranno, come faccio a scegliere? Aspettiamo, magari c'è qualche bella sorpresa. Per ora devo dire che non sono molto allettata. Che cosa ne pensa del sindaco uscente? Questi cinque anni di amministrazione come sono andati? Beh, sicuramente non hanno migliorato la città. Da qualche punto di vista l'hanno peggiorata, nel senso che non è stata un'amministrazione disonesta, sicuramente, ma è stata un'amministrazione poco presente. Cioè io non ho visto veramente nessun miglioramento, anzi se è possibile poca vigilanza, città più sporca. Quindi niente è cambiato, anzi lei trova che la situazione sia peggiorata? Sì, sicuramente non è migliorata. Miglioramenti non se ne sono visti e quindi facendo l'operazione debita direi che è peggiorata. Tra i nomi che circolano al momento lei avrebbe già un'idea? Tra quelli che lei mi ha elencato proprio no, onestamente. Quindi io spero, chissà, magari. Ma diciamo che la società civile che dovrebbe farsi sentire un po'. Questo è il problema, non è il candidato singolo, ma è il fatto che qui la popolazione non protesta. Si fa passare addosso i tir di spazzatura, di inciviltà e non protesta. E quindi perché ce la vogliamo prendere con gli amministratori? Se nessuno gli dice niente vuol dire che sono contenti. Ma chi tace, consente. Ce la vogliamo prendere con noi? Prendiamocela con noi stessi. Ed è un peccato, e ci tengo a dirlo questo, perché Torre del Greco adesso è piena come ricettività. Nel senso che i turisti vengono qui, dormono qui, soggiordano qui. E mi vergogno quando vedo gruppi di turisti che devono fare il dribbling fra feci di cani, spazzatura, sporcizia varia. È una risorsa. La nostra città è una risorsa per come è collocata. Potrebbero lavorarci tante persone. E non capiscono nemmeno albergatori e commercianti perché non si ribellano. Perché loro sarebbe l'interesse maggiore, oltre che il nostro. Alcune cose non vanno tanto bene. Tipo? Ad esempio? C'è sempre spazzatura per strada, non puliscono la città in poche parole. Cioè i bidoni sono sotto le nostre case. E la spazzatura la paghiamo. Al futuro sindaco che cosa chiederebbe? Di mantenere la città più pulita. Lei sa già chi voterà? Non lo so ancora perché non ci sono ancora le liste. Tra i nomi che circolano? Due fazioni, Mannella e l'altro Borrello, l'ex sindaco. E lei chi preferisce? Ma Ciro Borrello è un'amica che si è comportato, ha fatto bene per la città. Che cosa ha fatto in particolare? Che le è rimasto impresso? Io abito al centro storico. L'unico neve è che non c'è il parcheggio. Però per il resto ha sistemato un po' le cose. Si cammina, si libera liberamente. I negozi aperti, marciapiedi larghi. E invece del sindaco uscente che cosa ne pensa? Come ha amministrato la città? Non parlo. Noi non abbiamo il parcheggio. Lui ha tolto anche quello spazio là e poi si è fermato. Vedo che è rimasto così. Cose utili. I cittadini chiedono cose utili. Io la vedo così, ma non so gli altri se è la stessa cosa. Che ne pensa del sindaco uscente? Come ha amministrato questa città? E' bravo, insomma, per quello che può fare in una città così complicata. Quello che poteva fare la fatta, poi è normale. I cittadini al futuro sindaco cosa chiedono? Io che cosa chiedo al futuro? La pulizia, i servizi e che altro più potrei chiedere? Vediamo un po'. Ci stanno parecchie cose che non vanno. Sai che a Torre del Greco si tornerà alle urne la prossima primavera? Certamente. I cittadini cosa chiedono al futuro sindaco? Le cose più semplici, diciamo così. La scuola, nettezza urbana, ordine, traffico. Questo qua, non vogliamo soldi, vogliamo solo questo. Tra i nomi che circolano al momento dei futuri sindaci, lei sa già chi sceglierà? Io sono di sinistra e sarò sempre di sinistra, perché per me il male è minore. E del sindaco uscente che cosa ne pensa? Come ha amministrato questa città? Non lo giudico neanche perché si giudica da solo, penso. Se le cose non sono quelle che sono, si deve giudicare da solo. Per me è negativo. In cinque anni non è cambiato niente, non è migliorato nulla? Non è migliorato. Perché? Come? E come? Perché noi abbiamo una situazione sul territorio che non funziona su niente. Troppo clientelismo, troppo cose dovute proprio dalle istituzioni. Bisognerebbe cambiare, per me bisognerebbe cambiare dai bambini a scuola.